PODCAST GRU DU GRU VOLESTINVERSI TRE TESTE PER UL CERPERO L CERPERO PAPAPODCAST YAHU Ello Closhards E benvenuti in questa nuova trasmissione E diamo subito il benvenuto al nostro ospite Nino Frassica Ciao Ciao È un immenso onore per noi, siamo anche un po' emozionati Onore penso sia dir poco, onore penso Disonore Diciamo un disonore Ci diamo del tuo, già l'abbiamo detto off camera Siete tre? Siamo quattro Quattro più bonus Ci sono pure dei bonus Ah, quattro Quattro tu E du dubbi Io so du dubbi Ma è già iniziata la diretta Sì, sì, è già iniziata Sì, sì, sì Sono così è diretta È direttissima Ma io immagino che per lei sia la prima apparizione qua su Twitch Non ce l'ho da dire tu Te l'ho da dire tu Eh, l'ha detto lei Oh, per te è la prima volta che stai su Twitch, no? Non è che sei andato su altri canali Questa è la primissima volta su Twitch È il mio debutto Allora io posso dire che è molto importante diciamo qua la fotografia, l'estetica e il tutto Per noi diciamo come per ogni streamer è molto importante la postazione Infatti qua nasce la prima domanda che mi ha reso molto curioso Come nasce diciamo la scelta della sua postazione che vedo diciamo una cameretta molto colorita Questa è bellissima Flame, sembri mi padre in smart working Seduto nella postazione di gaming di mi fratello Ma che cazzo di descrizione è? Grazie, bello Grazie, grazie per i sub Sì, ma sto tutto rilasciato Ma poi mi sento stretto, sto tutto capito Ma fattori dell'associazione mi padre in smart working Tua, tua Tua, tua, scusami, scusami Allora le dirò Le dirò Ho pensato di creare questo ambiente così Per segnalare i miei gusti Questi sono i miei gusti I pupi, i pupazzetti La mattina mi alzo e gioco con le bambole Con la pistola finta Ma è bellissimo Sono rimasto ancora infantile Ma abbiamo notato che la comicità è rimasta giovane come un tempo proprio Stiamo vedendo la storia Dove c'è taggato con Davide E anche i giochi giustamente fanno parte di tutto Bene Allora, visto che lui è regista, Marco Chitano Volevo farti subito questa domanda Che rapporto hai avuto nella tua lunga carriera, anche cinematografica, con la figura del regista? Potremmo citarne alcuni, poi magari ci entreremo, però Che rapporto hai avuto? Vai Dipende caso per caso Chiaro Nessuno è uguale a nessuno Quindi ho avuto gli incontri quelli fortunati E poi mi sono capitati pure quelli stupidi Ai quali volevo spiegare più volte quello che volevo fare Qualche problemuccio l'ho avuto, come tutti del resto Però ho incontrato belle persone e gente interessante Visto che io sono molto appassionato di cinema Ho seguito appunto anche la tua carriera Com'è stato l'esordio al cinema? Che emozione è stata? Cosa hai imparato? E poi anche, diciamo, il film successivo Io sono stato, diciamo a me, per quello facile Perché ho fatto Io ho debuttato con Arbore E FFSE E lui, diciamo, improvvisava anche sul set E mi ha detto La prima cosa che mi ha fatto fare Mettiti qua Mentre si esibivano Si chiamavano Fate bene fratelli napoletani Che facevano uno sketch Io li guardavo e dovevo ridere Rido, ridido, ridido E l'abbiamo girato Ma io ridevo Così forte Che copriva l'audio di loro Per cui non si capiva niente Abbiamo rinunciato Allora mi ha messo in cabina regia Quando lui entrava Con l'attrice In sala regia io facevo il regista E non mi ha dato nessun copione Mi ha detto Fai finta di essere un regista televisivo E questo è stato il mio debutto Com'è essere ripreso Come se io non sapessi Che mi stessero riprendendo Quasi come un documentario Ma non era Era proprio Ma la prosa Quindi non hai sentito Diciamo questa sorta di pressione È stato molto Intuitivo l'approccio Ero emozionato Perché non l'avevo mai fatto Perché avevo paura Magari non mi scappavano le parole Non mi uscirono le parole E cioè che mi hai portato a fare Sopra Positivo Se non mi vuoi più bene Poi hai lavorato anche con Sergio Citti E tanti altri film Dopo il successo di Quelle della Notte Avevo ambizioni importanti Mi chiamarono in tanti E io ho detto no Sempre di no Perché avevo una specie di strana Mentalità pulita Nei confronti del teatro O del cinema Allora la prima chiamata Quando mi chiamò Sergio Citti Io disse Guardandino Questa cosa che fai Che ogni tanto non emetti il suono Dalla bocca Aggiunge un elemento di mistero Incredibile alla storia Quello che ho detto Non è che è importante Tanto dico cosa avvanvera Quindi nessuno perde niente Non vi preoccupate Poi non so manco Se è vero quello che dico Ci piace proprio E' quello che diventa tutto Un po' visionario Eh sì Questa cosa di improvvisare Costantemente Eppure un modo di vivere Credo Cioè io vado Reagisco a quello che viene Vedo molto questo No? L'improvvisare Diciamo sono stato abituato A questo Quindi Diciamo che Che il vero improvvisatore Inizia Chi studia In realtà Viene interrogato E dice quello che sa Non ha bisogno di improvvisare Chi studia per niente Non sa cosa dire Non sa perché Completamente E ne boccia Chi studia a metà Come io Io ero uno studiente Medio-basso Studiavo Per il 20% 30% Tutto il 70% E' tutta fantasia Perché io cercavo Di Non fare scena muta E quindi rispondo Quella è improvvisazione Teatrale Quello Cioè Molti studenti Fanno teatro Senza sapere di farlo Perché Però non parlo dei bravi Dei secchioni Perché Ha imparato E quindi Dice quello che ha imparato Quello che ha studiato Invece Chi è impreparato È interessante Perché Siccome non sa niente Comincia A inventare A aggiungere Cose di fantasia A intuito Cerca di Risponde Per sembrare Preparato Siete stati Studenti Secchioni O studenti Poco Secchioni Secchioni No Studente Improvvisatore Io sono stato Un improvvisatore Eppure Nello studio Diciamo Durante Nel mio esame Di maturità Mi sono causato Un sanguinamento Dal naso E col mio Secondo telefono Ho potuto Prendere I voti minimi Quindi diciamo Che l'improvvisazione L'ho L'ho un po' Usato ovunque Mettiamola così Un 30% L'improvvisatore A metà Tra l'imbruglione E l'uomo E' così Eh Sì che poi È un po' Il discorso Di otto e mezzo Di Fellini Visto che l'hai citato Prima La cosiddetta Sindrome Dell'impostore Banalmente Il tuo sogno Da ragazzino Qual era? Entrare negli scenari In cui effettivamente Poi ti sei addentrato O no? Io Sì Somiglia Perché in realtà Vivendo in un paese Dove i divertimenti Erano pochi Quello che Cercavo Era il divertimento Quindi La domenica Al cinema La televisione Il jukebox Le feste di piazza Tutto quello Che era spettacolo Mi incuriosiva Lo cercavo Ma come spettatore Io sono stato Sono tuttora Un ottimo spettatore Vado al cinema Vado al teatro Ascolto la radio Faccio diciamo Lo spettatore Leggo i libri Cioè sono un utente Diciamo Affezionato E quindi Mi piaceva fare quello Fino A vedere Tanta televisione E mi piaceva Essere anche là dentro Io la vedevo La televisione Mi piaceva Mi piaceva così tanto Mi piacevano Quelli che vedevo E sognavo Di essere là dentro Un bambino A me non mi piace tanto Un ragazzo Al quale piace molto Il calcio Vedere i giocatori Le partite Sotto sotto Sogna anche lui Di essere un calciatore E quello succede Molto spesso Agli uomini Di spettacolo Mi piace lo spettacolo E voglio farlo Ma lo spettacolo Inteso come Voglio intrattenere Il prossimo Era generico No Non era generico Perché ho provato A suonare la batteria Perché mi piaceva Ringo Starr Alfio Cantarella Dei L'Equip 84 Mi piacciono i batteristi E allora La batteria Secondo la mia Non mi sognava A studiare la musica Quindi Se non c'è da studiare Metto là A suonare A orecchio Chiara chitarra Cosa Uno deve sapere Che cosa schiacci O il pianoforte La batteria Sbattela Bene o male E infatti Ho iniziato con la batteria Però ho capito Che non mi bastava Poi ho iniziato A scrivere le canzoncine Assieme ai miei amici A fare una specie Di cantautore Volevo fare il cantautore Pure io Però la cosa Mi accorgevo Che era banale Che era troppo superficiale Che era qualunquista E allora ho detto No Siccome poi invece al bar Visto che non facevo niente Andavo sempre al bar Perché non facevo nessun concorso Perché avevo paura Di vincerlo Perché se facevo un concorso Lo vincevo Andavo a lavorare Quindi Niente Niente concorso E stavo al bar A cazzeggiare E la voglia di fare scherzi E la voglia di fare scherzi E cose eccetera Piano piano è diventato Il mio mestiere Continuo a fare In realtà Io gioco Scherzo Cazzeggio Però Ci ho studiato Ho studiato Per farlo diventare un mestiere Invece di farlo Cravico al bar Ma non mi pagavano Al bar non mi pagavano Favo al bar Invece Tu vuoi vedere Che può diventare un mestiere Infatti è diventato un mestiere A proposito di studio Ovviamente Qual è Diciamo la tua preparazione Attualmente Per I vari spettacoli E tutto quello che devi fare Nel senso Il tuo modus operandi Io scrivo Io scrivo Scrivo molto Metto appunti Cose Invento delle Situazioni comiche E le preparo Diciamo Faccio il mio Piccolo film Ogni uscita È come se fosse un film Io esco Faccio una botta Di una bella bella Di dieci minuti Per me è un film Quella Quella Esibizione Allora Me lo preparo Tutto Me lo preparo Me lo immagino Lo penso E poi vado A realizzarlo In diretto Quindi La mia è una preparazione Sui testi Su quello che dovrò dire E poi Siccome sono autore A volte mi capita Di inventare E quella Si chiama improvvisazione Quindi attingi un po' Dalla vita E Parto con il repertorio No Parto con il repertorio Certo Perché se non c'erò Le cose scritte Non so Mi perderei Però a quello Al repertorio aggiungo L'idea del momento Ma quanto è importante Per un creativo Per un artista Rimanere Connesso con la contemporaneità Quindi il cosiddetto bar Frequentarlo Vedere il sentore Del momento È logico Sei fuori dal mondo Però Però è parallelo Cioè io Vivo Le mie giornate E lo faccio Dico E conosco Vedo Guardo la televisione E cerco E sono diciamo Connesso Però E poi È quello che Il materiale Che Mi viene offerto È quello che vedo Tutti i giorni E su quel materiale Diciamo Faccio La parodia Faccio Rovino Vandalino Ma hai notato Che nel corso Degli anni La formula È sempre la stessa O hai dovuto Modificarla Appunto Come diceva Davide Per i tempi Che cambiano Ma sì Mi sono adattato Sì Forse sì Qualcosa è cambiato Però diciamo La matrice Il modo di rovinare La realtà La logica Essere il logico Assurso Quello è È sempre Dall'inizio Da quando ho iniziato Io Le mie scelte Da ragazzo Erano già Come quelle di ora Che ho 55 anni E Volevo farti una domanda Diciamo Tecnica Per quanto riguarda I medium Che hai citato Cinema Ma anche teatro Volendo Secondo te È vero Che sono Un pochino morti Come dice qualcuno Poi Magari nulla muore Però È difficile Evolverli Ulteriormente Diciamo È stato detto Tutto È difficile No Tutto non è stato detto È che è difficile Trovare L'inedito Infatti I bravi Diciamo Sono Quelli Che ti trova Una cosa Che nessun altro Aveva pensato Oppure Sono bravi Lo stesso Chi Riadatta Chi Trova la variante Alle cose Già fatte Per esempio La televisione Nel senso Del varietà Ogni tanto Arriva qualcuno E fa la variante Cambia E quello E quello è interessante Quindi c'è ancora C'è sempre Da inventare Da cambiare Da aggiungere Qual è stata L'innovazione In tal senso Più entusiasmante Dal tuo punto di vista Che hai potuto osservare Lavorando con Altri maestri O che tu stesso Sei riuscito a portare No Io Io no Io no Perché lo che ho visto Come spettatore È alto gradimento La rivoluzione È avvenuta Con alto gradimento Come nella musica I Beatles Arrivavano Questi quattro E cambiavano Tutte le regole Arbore poi Quello che accumulava Tutto quello Che aveva imparato Alla radio Lo portò Ne Quelle Il suo stile Che continuo A portare A mettere a fuoco Quello così Il disastro tecnico Sul set O in diretta Da qualche parte Peggiore Della tua carriera Come il Il disastro tecnico In diretta O durante qualche film Qualche spettacolo Ah no Beh Il vento Tregiravamo La La scomparsa Di Dato Di Pato Un film In Sicilia Di Rocco Mortelliti Sul libro Di Camilleri E c'era Vento così forte Che Giorni interi Aspettare Che Eravamo in un posto Di montagna E il vento Non ci ha fatto girare Perché Si chiamavano i microfoni I capelli Anche se ce l'avamo Incementati Tutto vento E non si sentiva Bene l'audio Questo come incidente Che mi è già È la presa diretta Un casino Un po' in posti Aperti Immagino Mi è successa Ma è una fesseria Una cosa che non è Molto importante Che c'era Il cameraman Che mi stava riprendendo E è morto Vabbè Una stupidaggine Ma così Giusto Una nota A pie pagina Una cosa da notare Eh sì Io c'è una domanda Particolare No C'è una domanda particolare Visto il tuo tipo di Comicità C'è qualche aneddoto Tipo Che ne so Quando magari Dicevi O qualche battuta O raccontavi qualcosa Che era completamente inventato Però vedevi le persone Che ci credevano E che rimanevano Sbalordite C'è qualche aneddoto Magari particolare Che ti viene in mente No Mi ricordo Che certe volte Facevo dei spettacoli Di piazza Dei cose Eccetera Posti Diciamo Non teatri Posti Che Spesso Io scherzavo Io dicevo battute E non venivano capite Venivano prese per vero Sì E' successo Per esempio C'era una Che per me era il test Io scoprivo Che tipo di pubblico Avevo davanti Quando dicevo certe battute Facevo proprio un test E facevo A me mi ha chiamato Berlusconi Abbiamo parlato pure di soldi Di milioni Si chiamavano Di miliardi Però poi alla fine Non ci siamo messi d'accordo Per 18 mila lire E quando Vedevo quelle Che dicevano Ma come Per 18 mila lire Capivo Capivo Che non avevano capito Che io stessi scherzando Pubblico difficile Sai che Perché Molti comici No Ma pure Per la gente In generale Quando fa una battuta Lo vuole far capire A me infatti Mi fa molto ridere Il comico Che Vieni anche tu Diciamo Sta in questa Categoria Per me Quei comici Che fanno la battuta Seri Completamente seri Io tipo Non ci riesco Quando faccio una battuta Mi viene da ridere Voglio far capire Che sto a scherzare Ho capito Però a volte A volte però serve Per A volte però serve Serve Che Che l'accompagni Perché Fai capire Che non ci credi Quando la battuta È stupida No Per esempio Quando la battuta È improvvisata Ed è stupida Allora La giustifichi Ridendo Dicendo Come per dire Che cazzata Che credi Vero Soprattutto quando uno Dice qualcosa Di molto grave Infatti qua c'è un'altra Domanda Diciamo in questi ultimi anni C'è molto questa cosa Del politically correct Del non se può Di niente Tu cosa ne pensi E se Pensi che Abbia cambiato Diciamo Effettivamente Quello che si può dire E quello che non si potrebbe dire A volte bisogna pure rischiare La dici Se poi dopo C'è qualcuno che si offende Chiedi scusa Si può fare Non fa parte Del mio genere Perché io Diciamo Non faccio Satira Io faccio Comicità Diversa Non me ne frega Della cosa Viene presa in giro Io parlo di cose Che non esistono Spesso E di persone Che non esistono Però Un po' più scherzare Su alcuni argomenti Sembra Un maledetto Invece Si può scherzare Ma qualcuno Si è mai offeso Per qualche tua battuta Infatti No Ma perché io Non ho Non dico cattivere Dico assurdità Ma infatti Ti ritrovi Nella definizione Diciamo Nino Frassica È un comico Surreale Ti piace? Assurdo Quello che faccio Teatro dell'assurdo Sì Surreale Quello sì Ti piace Anzi ho iniziato Io pensavo Avevo 19 anni E la mia prima compagnia Teatrale Delettante Si chiamava I cantatori pelosi Figli della cantatrice Per fare un omaggio A Ionesco Ma io avevo 19 anni Ionesco Non era Così conosciuto Come Come Goldoni O Moliere Io Mi piaceva Quel tipo Quel tipo di teatro Il teatro dell'assurdo Già avevo iniziato Quindi E fa parte del mio gusto A me piace Il teatro dell'assurdo E il surrealismo Secondo te c'è qualche comico In Italia attualmente Su Ci sono Questa definizione Fortunatamente sono pochi Però ci sono Massimo Bagnato Lo fa Valerio Rondini Herbert Ballerina Però non è che ce ne siano Tanti altri Come ti sei trovato Con Valerio Diciamo Valerio Siamo sintonizzati Perché Valerio Sta sempre distaccato Ed è perfetto Con lui Io nella sua trasmissione Pezza di Lundini Sono andato Tutti gli anni Mi piaceva proprio Perché si creava Assieme Un mondo Totalmente surreale Quando vado Negli altri Trasmissioni Ho sempre Il conduttore Che mi fa La spalla Cioè Lui è Di un mondo No Un suo mondo Classico Arrivo io E rovino Io invece Quando andavo Da Quando sono andato Da Valerio Perché era il mondo Che piace a me Il mondo Surreale E quindi Con lui Avere lui Era una forza in più Quindi eravamo forti Eravamo Un duo Molto interessante Cioè tu dici In altri contesti Io sono L'elemento Di rottura In altri contesti Rimangono Classici Classici Conduttori E io Che faccio Il comico Il bianco E il clown Sì che è anche il gioco Appunto Della televisione De varietà Spesso c'è Il conduttore Incessato Perché non è che I presentatori Di solo Non è che Devo essere Se i presentatori Fosse tutti come Valerio Lundini Ci sarebbe Un'altra televisione Non sarebbe neanche Originale Valerio stesso E certo Perché è l'unico Che fa Lo fa da presentatore Cioè la stessa cosa Facevo io Anche quando facevo Procammone Alla radio Si diciamo che Galleggiavi già In un universo Assurdo Quindi non c'era L'elemento di rottura Ma era proprio Una creazione Di un mondo Parallelo Questa cosa vale Vale con Maccio Capadonda Certo Quasi tutti i film Di Maccio E le fiction Mario Mariotti Io ci sono sempre stato Sono sempre andato Molte volte Quando Diciamo spesso Quando vado in televisione Trovo un mondo Classico E io arrivo A sto marziano No E si muove Già là Da Maccio Già Pronti Cioè i miei colleghi Cioè sono I miei Conterrestri Tu hai lavorato Come dicevo prima Con tantissimi Registi Eccellenti Tornatore Anche Sofia Coppola Eccetera Però vorrei chiederti L'esperienza Sul set Di The Tourist Del medico Von Dommersmark Dove hai conosciuto Pure Johnny Depp Raccontaci un po' qualcosa Ma là facevo Lo spettatorio Perché io La mia parte Era piccola Io facevo lo spettatorio Mi piaceva guardare Tutto quello che succedeva Ed era Si vedeva che era Un set americano Perché c'era un'esagerazione Anche Per dire Nel catering C'era Tanto da mangiare Che avanzava Se doveva fare Un decimo C'era tutta un'esagerazione C'era Johnny Depp Che aveva Quattro guardia del corpo Inutilmente Perché eravamo Dentro il set Che ci facevano Questo guardia del corpo Da chi Chi dovevano difendere Se eravamo tra noi Da te probabilmente Mi piaceva così Guardare Veramente Mi sembrava Di andare al circo Di vedere cose strane Cose curiose Troppo Cioè Professionale Ma C'era l'esagerazione Della professionalità E quindi Si Mi è piaciuto Poi Diciamo che Il vero piacere Che ho avuto A fare Il regista Che ha un cognome Von Dommens Mark Il regista Mi ha scelto Perché La madre In Germania Vedeva Don Matteo Perché noi In Germania E' molto visto Wow E vedeva Don Matteo E io E io piacevo molto Ah Colpo di scena Ottimo Diciamo che Non potendo ingaggiare Terence Hill E allora Allora la madre Ti ha detto Sai che mi piace Questo qua Allora lui ha detto Ti faccio un regalo Io devo andare In Italia A fare un film Se riesco A rintracciarlo Lo metto nel film No bellissimo Questa cosa Era simile Cioè comunque Come era vestito L'aiuto regista suo Si chiama Mangiante Alberto Mangiante E ha detto Tu lo conosci Quello che fa Che non sappiamo Anche il nome Il carabiniere La Si si lo conosco Lo conosco Gior Lavor Dice Me lo chiami Mi ha chiamato Io sono andato A Venezia E ci siamo E lui Ha messo Tanto La scena che ho fatto Era semplice Io dovevo Cercare di acchiappare Il giornateppo E non ci riuscivo Quindi è una cosa La poteva fare Chiunque E allora Allora però Ho detto Metto Questo frastica Che è un piacere mio Metterlo Io l'ho fatto Perché mi chiamano A avere un film americano Sono andato Ho detto Basta che si recita In italiano Perché l'inglese Non lo so No no E ho fatto E l'ho fatto Però è stato Cioè Grazie Alla Diciamo Matteo Quindi questa cosa Mi piace Ma infatti È una cosa Che non sapevo Francamente Forse non lo so In Germania Andavano molto I film di Bud Spencer E Terence Hill E quindi hanno visto lui No no Ma anche Don Matteo Anche Don Matteo stesso Sì sì Certo Terence Hill È un divo Internazionale Allora Terence Hill È un divo Internazionale Sì sì Mi sono accorto Quando noi giravamo A Poledo In piazza Dove c'erano i turisti Cioè A noi italiani Non ci conosceva nessuno A me mi prendeva Per carabiniere vero E invece Invece Lui veniva Cioè Qualsiasi nazionalità Qualsiasi Sì sì Vabbè Nel corso del tempo Hanno fatto anche Delle vere e proprie Repliche Di Bud Spencer E Terence Hill In altre nazioni In Francia Vabbè Cioè Ci sono anche Origini tedesche Da parte sua Quindi si sta La madre Se non erro Come connessione Ma Cioè In Germania È come Raul Bova Qua Come Come Tony Servillo Qua Assolutamente Ma cioè Il regista Ti ha detto Che La responsabilità Della pessima Riuscita del film È stata tutta tua Sì Dopo un capolavoro Come le vedi degli altri Ha fatto un film Brutto Si può dire Per colpa tua Ovviamente Sì 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 Ma infatti Ma infatti Ho dovuto rimborsare Non so Mi può stare in sacco di soldi Ho pagato Ho pagato io La produzione Mi ha accontentato Ho dato 120 euro Ok Qui c'è il valore Del tuo film Ah quindi Non in lire In euro Sì sì Euro Ma di questo Benedetto libro Oh infatti Era il momento Era la prossima domanda Il gancio era questo Aspetta Facciamo finta di niente Rimettilo dentro Facciamo finta di niente Allora ragazzi Notizia incredibile Visto che Nino Frassica Prima giustamente Ci ha parlato di scrittura Oggi ci presenterà Un libro Applauso in chat Ragazzi Paola Dici tutto su questo libro Questo è un libro Un libro Dal quale si farà un film Ok Allora Da questo libro Verrà attratto un film Come mai questo titolo Così Intrigante Criptico Criptico Paola Paola È il nome di una donna Perché non avevo mai sentito dire Paola No È la prima volta È la prima volta È un po' esotico Paola è un nome da donna Ah ok Ma in Germania Sì La madre del regista Ah ok Ah è tutto così Ah Paola von Dombes Paola von Dombes Allora no Lo volevo spiegare Che da questo libro Verrà attratto un film C'è scritto Nella retro copertina Il protagonista Sarà il soldato Carlo Mai citato nel romanzo Interpretato da Luca Marinelli Che è un bravo attore Ah ma è bravissimo Nel film Elisa detta Eli La fidanzata di Carlo Anch'essa mai nominata In queste pagine Non c'è Elisa È interpretata da Isabella Ragonese Che è un'attrice Conoscete Interessantissima La regia sarà di Matteo Garrone Che ha deciso Di togliere del tutto Il personaggio di Paola Ah vedi Una scenda a compromesso Le riprese Inizieranno il 6 Il 6 Riprenderanno le riprese Il 6 Ancora ha deciso il mese Non ha deciso il mese Però inizia nel 6 Titolo provvisorio del film Questo non me la conta giusta E Matteo Garrone Intervistato Ha detto Sono indeciso Se portare questo film Al festival Di Berlino O andare al matrimonio Di mio cugino Tommaso Il giorno Il matrimonio Non sa Se portare il film Vabbè come Woody Allen Agli Oscar Come Woody Allen Agli Oscar Il provo con la band O ritirare il premio Eh esatto Questo è appunto Questo non è che Stiamo parlando Di una cosa qualsiasi Voi l'avete letto? No Eh no Ce lo devono ancora inviare È in arrivo Io non so se Aspetterò il film Sarà il primo libro Che leggerò Io non l'ho letto Però mi sono stati passati Dei leak Ahia Pirateria Sì 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 Cioè? Già lo stanno piratando Mi sono stati passati Dei leak Ah lo so Adesso fanno le fotocopie Poi dove? Eh capito Comunque Ma l'idea del libro L'idea del libro Quando è nata È perché? Alla quale Alla quale succede di tutto Alla quale succede di tutto Ed è divertente L'ho scritto solo per far ridere Non c'è nessun messaggio Nessuna cosa interessante Nessuna cosa che ci riguarda Nessuna cosa Solo per far ridere Ridere fine a se stessa C'è quello che non Che spesso molti comici Bravi Anche più bravi di me Si dimenticano Perché ogni tanto Qualcuno che fa il comico Poi gli dice Ma è debù meglio E toglie Secondo me I contenuti Quelli Tolgono alla comicità Siccome sono per la comicità Preferisco i film comici Giusto Tra l'altro Hanno messo anche il link in chat Per acquistarlo Io l'ho letto subito Posso dire che è buono Sicuramente meglio Del film Eh il film Il film ancora Deve iniziare Eh no no In realtà Già ho visto pure quello Carrone mi ha mandato Le prime Ah ho capito Sì sì Allora sì Eh purtroppo sì Non mi sa che si è alternato male Tra gli impegni familiari E il set Vabbè ma quando è bello il libro È sempre meglio Sì ma è difficile superarlo Un altro bello Proprio anche averlo Sì Sì materialmente Sì sì Poi magari Su non lo legge L'importante è comprarlo Lo metti là Lei Paola Chiedetemi come si chiama di cognome Come si chiama di cognome Paola ha un cognome lunghissimo Tant'è vero Che nel retro Perché questa è la fotografia E il nome Il nome parte da qua E finisce qua Da fastidio Poi parla a Portone Perché c'ha un cognome lunghissimo Si chiama Prestigiacomo Venturi Di Maio 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 Santo Maio Differente In un paese Si chiama Avona Di duemila abitanti Il sindaco Vuole Che siano Duemila Gli abitanti E infatti Ogni volta Che nasce un bambino Ammazzano a uno Ah Ok Ok In modo che il conto sia pari Duemila Perché se no Dici duemila e uno Duemila e due Ah beh Bilanciati però Ci stai No no Per coerenza Per coerenza Ma È un Visto che prima ci hai detto No Attingere della vita Hai conosciuto una persona simile Hai preso da varie donne Oppure un personaggio Totalmente inedito Ma sai Ma sai che Anche involontariamente Qualsiasi cosa Che scriva Non può prenderlo da Perché io parlo del padre Del mestiere Cioè Tutte cose che esistono Cioè In realtà Non parlo di Una donna Con tre teste O Cose impossibili Capito Parlo di Di realismo Di cose reali Però Alla mia maniera Il padre Per esempio Fa il lavavetere Solo che lo fa A Davona Dove c'è un solo semaforo Questo semaforo È sempre verde Perché Hanno sbagliato Se è rotto il coso È sempre Per cui passano Ste macchine E lui Per lavare i vetri Deve inseguire Le persone Quindi è povero Perché Non è che riesce A racimolare Chissà quanto La madre Per esempio Fa La falegna Fa E Ad Avona Ci sono 1200 Falegnamerie Per cui In una città 2000 abitanti 2000 abitanti 1200 Diciamo Che è una bella Leggera competizione È povera Diciamo Per questo è povera Ma lei Siccome è fortunata Perché pensate L'unica In Italia Ha vinto Tre volte Di seguito Il biglietto Della lotteria Di Capodanno La lotteria Di Capodanno Del 71 72 Ha vinto Per tre anni Consecutivi Cioè lei Comprava il biglietto E era quello Che vinceva Per tre anni Quindi è diventata ricca Ed è Una donna Fortunata Diciamo Diciamo Tant'è vero Che poi Le pensa Che lui Nel 70 Non l'ha comprato Il biglietto Per non essere monotona E fa vince anche Un po' gli altri Ha detto Sì Diamo spazio Facciamo giocare Gli altri Possiamo dire Che è un libro Femminista Anche Che bello Ma sono solo io Che noto una somiglianza Cioè non c'è una parentela Con questa paola Leggerissima No è vero Io sono bravo A definire somigliano Devo dire la verità Un po' mi somiglia Io non ce l'avevo fatto caso Trovarla Eh ma Marco Ero osservatore attento In quanto regista C'ho l'occhio clinico Le noto un po' Secondo me È stata lei A cercare di somigliare a me Per essere donna Sta rivista Quando è andato Quando ha fatto il servizio fotografico Lei secondo me Ha cercato di mettere Di assumere Una posizione Una cosa Sì Secondo me ha usato Una di quelle app Secondo me ha usato Pure un po' Per avvicinarsi All'obiettivo Questo non lo so E non lo posso dire Perché La mia religione No no Sarebbe rispettoso Certo Però pure in chat Hanno notato In effetti Dicono un po' Nell'espressione Sì Qualcosina c'è Lo sguardo È stata lei Curbamente Chissà perché Cerco di somigliare a Frassica Ma questo non è Io voglio chiederti una cosa Poi andiamo verso la chiusura Non ti tratteniamo eccessivamente Una domanda un po' marzulliana Se vuoi Però La tua patria Dove sei nato Il tuo Hai un ricordo Legato ad essa Io Molto spesso Sì La tua città intendo Di origine Il militare Quando ho fatto il militare Cioè Tu riesci ad associare Immagini Al tuo passato Da infante C'è qualcosa Qualche flash Il militare Quindi Signori Io rimango Io rimango Rimango Del Del mio paese Comunque Volevo dire che già Sto iniziando a scrivere Altro libro Ah Che bello Che non fanno rima Con amore e cuore Ma già è pronto Praticamente Sì Questo è per Gli autori Gli autori Di canzoni Siccome Adesso Con amore Allora Ho messo Ecco Sempre Cavallo Non fa rima Ah vedi Pensiero Non fa rima Trottola Ci sta poi Laurea Che poi non è un libro Così lungo Casa Non so tantissimi E ci sono tutte le parole Che non fanno rima È un bel libro Praticamente è un saggio Quindi sei anche saggista È utile Sì 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 Sono saggio E poi l'altro è Un dizionario Un altro libro Numeri dal Cioè in questi libri 18 Guarda E quindi però Non c'è Settecentocinquanta Non troverai mai 12 13 No Sono tutti numeri Dal 15 in su Beh affascinante Potremmo cercarli Ma non so Facciamo una prova Apriamo a caso il libro Non ci credo molto Mille e tre Ah giusto Vedi giusto Giusto Non era sotto il 15 No 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 Assurdo regà Ultimo tentativo Vai 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 Ultimo Ma questo vale per ogni anno Oppure c'è una scadenza Ma questo ormai è finito Cioè Varrà per sempre Un long seller No Guarda qua È una pietra miliare da avere Quindi L'ultimo numero 16 Sembrava quasi Una disuna Aia Stavamo quasi Ci siamo andati vicino L'avevo rischiato qua Ma l'ultimo numero Qual è 12 12 No come 12 12.000 No 12.000 Ah Preoccupare Stavo prendendo un colme Eh dico Vabbè magari L'errore di battitura Era andato a capo Capito Sembrava 12 Eh sì Va bene Sono cose interessanti Sono libri interessanti Assolutamente sì Compreremo tutto Come anche i nostri ragazzi Che hanno già il link in chat Nino Noi ti ringraziamo tanto Ci dispiace solo per questi piccoli problemi Però è stato veramente un onore per noi E rivediamoci a Roma di persona Quando potrai Eh Vengo lì Mi porto una sedia Ma c'è anche il divano Ci abbiamo un divano Ci abbiamo a vedere Va bene Divano Sonego Ciao ragazzi Ciao 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 ragazzi È stato un onore È stato un vero onore Ciao Nino Grazie Ciao Nino Ciao Ciao Spettacolo Mamma mia Io volevo Di subparlo Ma l'avete notato Queste sono quelle live Che vorresti Che vanno avanti Tipo per due o tre ore Sì ma perché Si è raschiato Solo la superficie Del Delle potenzialità comiche Credo Però vabbè È normale Ma anche delle domande Delle curiosità Sì 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 Per dire avendo visto Io per dire La prima edizione Di Colorado Che posso dire Ma ha fatto ride Era quando la presentava lui Mi faceva tagliare Infatti Per dire C'ho la curiosità Di ma è scritta Sta cosa Perché poi Si ritrovano Determinate clip Sai tante volte Ci ho pensato Ma è scritta Oppure è partito Un'altra E una cosa E l'altra E ha sparato Sta cazzata Ci avevo infatti La curiosità Perché ha visto Pure la cosa Che ha detto Che uno deve avere Diciamo una scaletta E poi in mezzo vai Perché a volte Andava completamente fuori Tipo Andà di cose Che non c'entravano niente Ma che facevano Scompiscià Da ride E poi dava spazio Agli altri E io ricordo Che dicevo Minchia Fa più ride il presentatore Te parlo che Ero piccolo Quindi lui lo conoscevo poco In realtà E dicevo Minchia Fa più ride il presentatore Che la gente Che arriva A fare i sketch Certo Quindi è uno dei primissimi Ricordi che c'ho De Frassi Io lo duravo Indietro tutta Che era un programma Che ero Era da 87 Quindi ero così piccolo Che non ero nato Addirittura Era proprio Piccolissimo E mi ricordo Che faceva Tagliare Era tipo Molto simile Secondo me Dove Dove Rimariva a noi E' uno studio Tutto colorato Stranissimo E Gente vestita Da Napoleone Sketch Dove prendevano In giro la tv Attuale Dove facevano Le deponate a casa E erano tutte trollate Facevano inofrassica Al pubblico E secondo me C'era pure il pezzo Dell'intro Era molto simile a noi Anche se voi Magari non l'avete mai visto Vi hanno influenzato Per certi I movimenti Lo sketch Non c'è ancora lo spazio Però secondo me In futuro Quando ci avremo una band La possibilità di mettere una band L'idea di fanno studio come loro Sarebbe figo Quello di indietro tutta E' una figata Insomma Una grande esperienza Per noi E' veramente Almeno parlo per me Un onore assurdo Semplicemente confrontarmi Con un mostro sacro del genere Cioè se penso A cinque anni fa E penso a questa situazione Mi dico Impossibile Illegibile Minchia Direi di sì Comprate Paola Comprate Paola Link in chat E adesso è una bella live Sì sì Una grande soddisfazione Grazie Lucia Grazie Cristian Mi è piaciuto molto Il discorso sull'improvvisazione Perché lui alla fine Quello è Sì E pure come ha spiegato Di come è fatto lui Di carattere Non gli piace scherzare Gli scherzi Le trollate Ai suoi amici Sì E ha trasformato In un mestiere Una sua indole Potremmo pure dire E poi pure il discorso Del fatto che In tv In una tv Molto istituzionale Funziona molto Che ti arriva Questo marziano Come l'ha definito lui Ci sta il presentatore Tutto in giacca E cravattito Tutto serio Che c'ha la scaletta Poi arriva al comico Che ti fa prendere bene Tra l'altro Facendo di proprio Dimenticare tutto Cioè Ha fatto pure un discorso Sul tipo di comicità Quella che cerca Un attimo Di farti un po' più riflettere E quella che invece Vuole far spegnere il cervello Lui fa parte De quelli che vogliono Far spegnere il cervello Ovviamente E lo apprezzo Per questo E poi niente L'improvvisazione Va lasciata fare Non so come dire No? Beh quello che ha detto lui Si è stato super interessante In seguito alla tua domanda Cioè Un conto è Se c'è un contesto Ingressato Ed io sono l'elemento Di rottura Un conto è tipo Lundini O Maccio Capatonda Dove già c'è questo Teatro dell'assurdo Definizione corretta Che ha dato lui E quindi galleggio All'interno di questa struttura Che già può ospitare Un marziano come me Quindi lascia più spazio Anche all'improvvisazione Certo Perché è come se fosse Organico a quel contesto Magari in un contesto diverso In cui invece Devi rompere gli schemi Devi scriverti In maniera Molto più precisa Il tutto Poi ovviamente Non passi il discorso Che Nino Frassica Sia una persona Che improvvisa Così c'è una persona Che comunque Si prepara tantissimo E studia tuttora Però Nella vita O in contesti Come questo Che diceva Simone C'è lo spazio per La poterosi È darsi Perché hanno pure Un minutaggio Ben serrato Quindi poi Sarebbe pure complicato Comunque riusci Magari Aggio Strai i tempi Sapendo che magari Che ne so C'hai due minuti O c'è ne cinque O c'è ne dieci In tv Fatti danno tre minuti È diverso Che poi appunto La cosa che ha detto Fondamentale Specie quando magari Stai lavorando A qualcosa di tuo Che non è che sei ospite Da Pippo Baudo Ma sta a fare Magari uno spettacolo tuo È proprio quello C'è l'unione Della Della Programmazione Manalmente Unita Al non aver paura Di non farci Troppo affidamento Cioè No Secondo me Ci sono due tipi Anzi tre tipi di persone Uno che Fa troppo affidamento Sull'improvvisazione Si ritrova con Determinati problemi Chi fa troppo affidamento Sulla programmazione Si ritrova con Altri problemi E chi riesce Magari ti manca un pezzetto E crolla tutto Sì E chi riesce a fare Il connubio Per esempio Lui c'è riuscito Anche banalmente In questa intervista Cioè Ha cavalcato il momento Problema tecnico audio E quando ha fatto Quella battuta In cui si è interrotto Infatti Ci ha spezzato E lì era proprio Una battuta Semplicemente di Tempo Silenzio Cioè Fatto ride col silenzio Esatto Tu sei in attesa E lui sta zitto appositamente No Poi vabbè Quella è anche scuola Nel senso che Come ha detto Ha un repertorio gigantesco Capirai Può veramente Attingere Da un patrimonio Infinito Cioè Ragazzi Questo è uno Veramente che ha lavorato Con i migliori Leggisti italiani E non solo Quindi Parliamo di una persona Che è stata lanciata Da Arbo E Un altro genio Assoluto Quindi Parliamo effettivamente Di un mostro sacro Che è riuscito comunque A rimanere trasversale Nel corso degli anni E Tra l'altro Il discorso che facevi Sull'improvvisazione Io ad esempio Me l'ho segnato Una ventina di domande Ovviamente Però nella mia testa Dicevo So che Molte le dovrò Accantonare Un po' modificare Perché devi cavalcare Anche un attimo Il mood dell'ospite A volte ha risposto Seriamente A volte ha scherzato Non è che Devi insistere Ovviamente Sì ma infatti Facendo sto lavoro Uno lo capisce Cioè capisce La realtà della vita Proprio che non puoi Programma a tutto Cioè capito È giusto come Fede Che ti fai 20 domande E poi magari Ne fai 7 Quello è il piano B Sta lì Sta pronto Però devi anche Valutare l'errore Arrivi qua Un'ora prima Va tutto bene Sì però Vedi alla fine C'è stata tutta una preparazione Addirittura Abbiamo usato la live Di ieri sera Di Play Cerbero Per fare dei test Per vedere se Questa live Sarebbe Tutti i test del mondo Abbiamo fatto Forse è stata la live Imprevedibile È stata la live In cui il sergente Marco e Simone Si sono messi Forse con più impegno Nella preparazione Precedente Paradossalmente Quella in cui Poi è successo Diciamo che l'audio L'abbiamo controllato Però lui Sì ma probabilmente Era un problema Del microfono Era un problema Dalla sua parte Quindi noi abbiamo risolto Tutti i problemi Nostri Ma alla fine Bastava uno Il fatto è che Lui Non era manco grave Lui per 40 secondi Lì prova prova Si sente bene Si sentiva molto Sto bene Doveva parlare Sai quel 40 secondi Poi quei secondi Di silenzio Lì scompariva l'audio Ogni tanto Doveva solo andare Nelle impostazioni Di discord E disattivare il noise gate Che per noi è una cazzata Ma poi l'ha fatto L'ha fatto Ma non è cambiato nulla Non è possibile Che salti l'audio La ragazza Ci ha detto che l'ha fatto Per quello Stavo parlando con lei Su Whatsapp Nel frattempo Quindi c'è un problema Ulteriore che Lì per lì Non si era presentato Nelle prove E allora è proprio illegibile E allora ci serve De persona Magari viene Io infatti ho provato Invitarlo di persona Però non si poteva Allora da prendere pure Kamak Sì sì Vabbè Mi hanno detto Facciamo questo In collegamento Poi vediamo A me sembra si sia divertito Quindi assolutamente Ci proveremo Ma chi ve li porta Questi ospiti Eh? Su Twitch Comunque grazie anche a voi Che ci state supportando Tantissimo Ultimamente Una marea di sub Siamo tanto contenti Ci stiamo impegnando molto Insomma Siamo super carichi Abbiamo ritrovato Anche un'alchimia Di gruppo Ognuno Secondo me Al cento per cento In questo In questo periodo Ci sentiamo proprio Nel nostro prime Questa settimana Ancora tante Tante altre sorprese Dario Moccia Porta gli ospiti Che preferirebbero Stare qua Calla Va bene Ragazzi Allora J-AX Uno Su tanti Vedi ho fatto Le sub dopo un mese Ma lo sai Zara Che in diversi Mi hanno scritto Era un po' dei mesi Mi ero un po' stufato Poi ho rivisto qualche live Mi è ripresa la scimmia Sono contento Davvero Anche perché Certo Penso si veda Stiamo lavorando tanto Però Con quell'energia Magari Fine settimana Arriva la stanchezza Ma è una stanchezza Fisiologica Data dal duro lavoro Soddisfacente Non è quella frustrazione Dove magari lavori Stai male Soffri Perché Fai tanto Ma non lo fai fatto bene Oppure non vedi risultati Quindi È un casino Sì pure Ai Bosca Stiamo lavorando Stiamo lavorando Ma Ancora Un po' problematico Quel punto Si faranno Però forse Con un po' di ritardo Magari Fini aprile Non lo so Però sì Anche i Boscar Ci saranno Ovviamente Va bene ragazzi Ci vediamo alle 21 E niente Dai Ciao Ciao ragazzi Ciao 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 Stai arrivà Ello Croccia A presto Non dovresti chiederti la carta Ma è scurdo State pure registrando Aspetta, tu caccia di me ascolti Tutti al bagno Come te fai?